Cari amici, iniziamo insieme l'avvento, è interessante che l'avvento inizia dicendoci svegliati, svegliati, bellissimo perché uno dei grandi rischi è addormentarsi nella vita, sappiamo fisicamente cosa vuol dire dormire, dormire vuol dire spegnere il cervello e cioè quando uno va a dormire cerca di spegnere il cervello, almeno la parte conscia del cervello, spegnere il cuore e spegnere i movimenti, nella vita succede di addormentarsi e cioè di spegnere il cervello, cioè non farsi più domande o perlomeno ragionare a frasi fatte, a luoghi comuni e dall'altro spegnere i desideri, non avere più sogni, non avere più attese da questa vita e anche spegnere i movimenti. Quante volte rischiamo di essere fermi e di dire non ho più voglia di cambiare, non ho più voglia di provarci, va bene così, ho sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così, ecco quante volte c'è questo rischio personale comunitario di dormire, di addormentarci, che bello che l'avvento venga a dirci svegliati, che cos'è che ci addormenta? Sono tante le cose che ci addormentano, ci addormentano ad esempio i luoghi comuni, i luoghi comuni addormentano il cervello, quante volte ragioniamo per luoghi comuni? I luoghi comuni sono quei modi di dire che non sono assolutamente verificati, ma che ormai tutti riteniamo per veri e ci sono tanti di quei luoghi comuni sulle vicende più quotidiane, sugli uomini, sulle donne, sulla coppia, sulla famiglia, sugli immigrati, sui politici, noi sovente andiamo avanti per luoghi comuni, non abbiamo verificato, non è così, è semplicemente che tutti dicono così, si dice così, lo dico anch'io, dobbiamo svegliarci, non si va da nessuna parte sui luoghi comuni, ma anche le abitudini, le abitudini sono quelle cose che si ripetono e uno non si fa nemanco più la domanda, è abitudine fare così, fanno tutti così, ma se gli altri fanno così, perché non devo fare così anch'io, siamo abituati, dobbiamo svegliarci, riprendere il cammino e soprattutto le ovvietà, siamo malati di ovvietà e cioè quando le cose diventano ovvie davvero noi ci addormentiamo, perché le cose non ci appassionano più, le cose troppo ovvie che so già, so già cosa dirà adesso mio marito, so già cosa dirà mia moglie, so già come reagisce mio figlio e invece tu non lo sai ancora, noi non sappiamo mai cosa può succedere, cosa può venire fuori, davvero ogni cosa ha un suo lato sorprendente, se lo sappiamo vedere, dobbiamo svegliarci su questo, è difficile svegliarci, sicuramente è difficile, per questo dedichiamo un tempo che si chiama avvento per provarci, provare a svegliarci da queste cose che abbiamo detto, anche quando la vita diventa difficile, perché lo so, certe volte uno dice sì è bello svegliarci quando c'è il sole, ma quando piove è bello svegliarci quando mia moglie mi sorride, ma quando non mi sorride, che bello, il Vangelo ci viene a dire che ci si può svegliare in ogni occasione, anche quelle più tragiche, di fatti è interessante che il Vangelo di Domenica parla di sera, mezzanotte, all'alba, al mattino, sapete sono interessanti queste citazioni, ci parlano del calvario in realtà, alla sera c'è la cena, poi c'è l'arresto nel cuore della notte, poi al canto del gallo c'è un tradimento, al mattino c'è una condanna, cioè c'è un calvario, c'è un momento tragico, bene anche dentro quel momento tragico c'è una possibilità di svegliarsi, per una ragione molto semplice, è quella che ci dirà l'avvento, soprattutto nella seconda parte, perché il Signore non è lontano, è qui, il Signore ci cammina davanti per aprirci strade e aiutarci a risvegliarci, cioè a vederci un'opportunità nella giornata che inizia, nella vita che ti è data, nella situazione dove sei, fosse anche davvero tragica, come a volte capita. Ci auguriamo di vivere un avvento così, un avvento che ci svegli. Grazie. 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 Grazie.